Parte domani la campagna vaccinale contro l'influenza di stagione, quella anti-covid, dal 10 in Abruzzo a Pescara dall'11, visto che domani ricorre il santo patrono Sancetteo. È possibile vaccinarsi inoltre nei prossimi giorni anche in farmacia e dai medici curanti, come ci spiega la dottoressa Graziella Soldato, direttore dell'unità operativa complessa igiene, epidemiologia e sanità della ASL di Pescara. Da domani inizierà una campagna di vaccinazione anti-influenzale che prevede non solo la vaccinazione anti-influenzale ma anche la vaccinazione anti-covid-19. È importante che le due vaccinazioni viaggino in parallelo perché vi è un'ampia circolazione soprattutto del SARS-CoV-2. Per l'influenza siamo ancora a livelli basali, quindi casi sporadici, in attesa del picco che con ogni probabilità arriverà tra dicembre e gennaio. Ovviamente si può fare solo l'anti-influenzale e si può fare solo il vaccino covid. Esattamente, comeppure si possono cosomministrare. È importante però farli tutti e due, con le modalità che chiaramente sceglierà l'utente. A chi consiglia questi due vaccini in particolare? Beh, secondo le raccomandazioni ministeriali e quelli del mondo scientifico, la vaccinazione è raccomandata a tutti gli over 60 e a tutti coloro che si trovino nelle condizioni di fragilità e quindi di malattie croniche che potrebbero complicarsi in caso di influenza o di covid-19. Come detto, aggiunge la dottoressa Soldato, è consigliato ai bambini dai sei mesi ai sei anni il vaccino anti-influenzale. Proprio perché loro vivere in comunità, la difficoltà di rispettare quella che è l'etichetta respiratoria a questa età favorisce un'ampia trasmissione dei virus influenzali e di altri virus respiratori. Dottoressa, si è parlato poco di covid, invece il virus circola ancora e abbiamo visto che c'è stato un aumento dei casi, un aumento fisiologico? Esattamente, il virus non è mai sparito, continua a circolare e chiaramente come tutti i virus ci saranno dei picchi di infezione e quindi ci avviamo ad incrociare questo picco ecco perché è importante in questo periodo iniziare la vaccinazione anti-covid-19 che quest'anno sarà annuale esattamente come la vaccinazione anti-influenzale. Per quanto riguarda i sintomi di questa sottovariante, mi spiegava lei, sono gli stessi precedenti? Il covid-19 ha una sintomatologia tra i virus respiratori piuttosto trasversale, diciamo, quindi di raggruppo un po' tutti. La nuova variante su cui è stato formulato il vaccino, quindi JN1, è quella ampiamente circolante in questo periodo e quindi riesce in qualche modo a supportare l'immunità della persona e quindi riesce in qualche modo anche a difenderci. Anche se non completamente, comunque ci garantisce sicuramente dei sintomi più lievi. Anche i medici di base e i farmacisti possono effettuare vaccini anti-influenzali e anti-covid? Sì, come negli anni passati, avremo la partecipazione sia dei medici di famiglia che delle farmacie territoriali e questo è un grande vantaggio per l'utenza perché possono tranquillamente rivolgersi anche a loro e oltre che chiaramente agli ambulatori vaccinali dell'AS di Pescara.